buongiorno ragazzi da chef 71 ultimora allora i due magnati americani rocker da che zio peperone sono in lotta per comprarsi l'inter è già stata inviata un'offerta in sede è arrivata e zang sta valutando proprio in questi minuti in giornata ci saranno altri aggiornamenti grazie a tutti da chef 71